Siamo all'interno della Gipsoteca Gianluigi Giudici a Lugano e abbiamo in corso una mostra temporanea dedicata, che abbiamo chiamato Nuvo Realism, Pop Art e Street Art, organizzata in occasione del Long Lake Festival e allestita con una selezione di opere della collezione Artrust. Ogni anno il Long Lake Festival organizza una serie di eventi che sono volti a coinvolgere i cittadini di Lugano le famiglie, i turisti, i passanti, con una serie di attività e proprio per questo motivo abbiamo deciso di organizzare una mostra che potesse coinvolgere il più ampio pubblico possibile. Abbiamo selezionato opere di importanti artisti svizzeri come Daniel Spurri o Jean Tengeli, abbiamo selezionato, ci sono delle opere legate al mondo della musica come i violini di Arman, ma abbiamo anche opere legate alla Urban Art, che tra l'altro è proprio uno dei temi del Long Lake Festival, come ad esempio i vinili di Vansi. Tutto questo appunto per cercare di coinvolgere il pubblico è una mostra proprio per i cittadini di Lugano, per il Long Lake Festival, è una mostra adatta a tutti. La mostra ha luogo presso la Gipsoteca Gianluigi Giudici di Lugano, in riva Antonio Caccia, presso lo Stabile Central, al primo piano, e ha luogo dal 24 giugno al 29 luglio, aperta dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 18.